fate il muro, chiudete col muro, togli il telo via il telo la croce, la croce vuoi farlo qua fate direte un cecco intorno la croce prendila Bruno, prendila pezzo abbiamo superato per sempre lo spazio-tempo prendo la porta dell'aldilà e abbiamo messo le basi per sempre dell'ultima arte grazie a tutti e adesso possiamo andare da Craco a berci un ottimo drink possiamo farvi una foto vicino? guardi una foto lì grazie grazie è l'unico che ha il telefonino dietro spettacolo anche da questa parte professore, grazie si mette il tacco qua e si gira tre volte sul tacco devo girare? sulle palle sulle palle ci provo dai mettere il tacco sulle palle e girare tre volte tre volte? si la persona due? adesso la terza è una performance minima fatta fatta